Alcuni guru del marketing dicono che il telefono non è più un canale di vendita efficace. Noi abbiamo un'idea leggermente diversa. Noi crediamo che il telefono è e resterà sempre uno strumento fondamentale di contatto con i tuoi clienti attuali e i tuoi clienti potenziali in fase di vendita e di post vendita. Quello che deve radicalmente cambiare è il modo di gestire la comunicazione telefonica con i clienti. Nell'era del digitale e del GDPR se qualcuno ti contatta dal nulla per presentarti e piazzarti questo prodotto o quel servizio ovviamente fa un buco dell'acqua. Non serve assolutamente a nulla. Se però a chiamarti non è un disturbatore telefonico, non è un ragazzino del call center, ma un professionista autorevole che ha delle informazioni specifiche su di te e può presentarti un progetto che vale per te e non per qualcun altro, beh allora quel tipo di contatto cambia natura e diventa molto efficace. Nel nostro corso di comunicazione commerciale al telefono noi facciamo esattamente questo, cioè lavoriamo sulla trasformazione e il cambio del paradigma da disturbatore telefonico a professionista autorevole. In aula lavoreremo su tre aspetti. Il primo, come il telefono può essere inserito nel tuo processo di vendita? Con quali tempi? Con quali e quante risorse? In che fase del processo di vendita? Il secondo aspetto su cui lavoreremo, l'aspetto puramente comunicativo. Lavoreremo in modo maniacale sulle sfumature perché il confine, la linea di confine tra il disturbatore telefonico e il professionista autorevole è molto molto labile e qualsiasi sfumatura può fare la differenza. In questo senso le parole chiave saranno assertività, ascolto e feedback. Il terzo aspetto su cui lavoreremo in aula è la gestione della frustrazione legata ai tanti no grazie, sono già a posto, non ho tempo, non mi dovete disturbare, che purtroppo fanno parte del mestiere. Chi ha venduto al telefono sa esattamente di cosa sto parlando. Il nostro corso di comunicazione commerciale al telefono sarà una full immersion, sperimenteremo in aula, lavoreremo su casi specifici, provando e riprovando decine di volte fino ad osservare e a correggere il più piccolo dei dettagli. Scopri di più sul nostro corso di comunicazione commerciale al telefono sul nostro sito e contattaci per passare dalle parole ai fatti. Noi ti aspettiamo. Buon lavoro! Grazie a tutti!